ciao a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovo video breve 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 penso che durerà forse tre minuti comunque volevo solamente dirvi perché me l'hanno chiesto in parecchie e onestamente non l'avevo mai fatto cambiare l'ora sulla moto allora noi abbiamo solamente questi due tasti qua dove c'è scritto mod e reset reset sarebbe quello in basso e mod sarebbe quello in alto allora se vogliamo cambiare cioè aspettate se vogliamo resettare i chilometri basta schiacciare noi siamo sul chilometraggio totale della moto basta schiacciare una volta mod andiamo lì teniamo premuto reset io adesso l'ho già fatto perché domani dobbiamo andare a farsi un giro voglio vedere i chilometri che facciamo e lui si a zera una volta fatto quello siete a posto se invece tenete premuto reset per un po vedete che l'orologio inizierà a lampeggiare schiacciando mod non è vero schiacciando un'altra volta reset una volta sola vi lampeggia solamente il primo numero allora l'ora vi va dall'1 al 12 non non vi fa 13 14 15 non ve lo fa quindi andate sul 6 schiacciate di nuovo reset vi lampeggia l'altro andate a quanto è l'ora adesso sono le 6.22 io devo mettere 6.22 rischiacciate reset e vi lampeggia per due vi lampeggia tutte e due vi lampeggiano una volta che siete qua rischiacciate mod e siete a posto ecco come si cambia l'ora sulla z750 tutto lì spero che questo video sia utile a qualcuno brevissimo video mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale attivare la campanellina per avere le notifiche di quando usciranno i miei prossimi video lasciate tanti like e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao